A voi tutti ben ritrovati da Giuseppe Davetis, amici di Meteo Giuliacci, ancora il vento è il protagonista, ma questa volta vento da nord-ovest, maestrale rinforzo, non più vento da sud ed in effetti le temperature caleranno, caleranno temporaneamente, poi tra il 24 e il 25 ci sarà una ripresa delle temperature per poi tornare di nuovo giù. E intanto godiamoci la giornata di lunedì che sarà bella quasi dappertutto, un po' di nuvole si addosseranno alle Alpi, qualche nuvola sulla Sardegna, dei rovesci di pioggia invece sulle estreme regioni meridionali tra la Calabria, il Salento e la Sicilia più settentrionale, zone tirreniche, ma altrove vedete il sole splenderà quasi indisturbato. Abbiamo detto però occhio al vento, ci saranno anche forti raffiche, ma questa volta da nord, quindi farà più fresco, clima decisamente più invernale, anche se senza eccessi e più natalizio. Io mi fermo qui, buon proseguimento, arrivederci.